Enrico Montesano è nato nel quartiere Garbatella di Roma, da una famiglia con radici profonde nel mondo artistico teatrale romano. Il suo trisnonno Nicola, nato nel 1851, era un attore comico, mentre il bisnonno Michele Montesano, insieme al fratello Achille, fondò una compagnia di operette a Roma. Il nonno Enrico era direttore d'orchestra e la nonna Bianca Castagnetta un'attrice. Fin da giovane Montesano mostrò un forte interesse per la recitazione. Dopo aver conseguito il diploma di geometra, esordì sul palcoscenico nel 1966 con lo spettacolo Humor Nero di Vittorio Mez al Piccolo Teatro Goldoni di Roma, inizialmente come imitatore. L'anno successivo, nel 1967-1968, cominciò la sua carriera nel Cabaret Alpuff, celebre locale romano, collaborando con Leone Mancini. Il suo debutto in televisione avvenne nel 1968 con il varietà Che Domenica Amici, diretto da Vito Molinari e condotto da Raffaele Pisu, seguito dalla partecipazione a Quelli della Domenica con Paolo Villaggio. Parallelamente al lavoro televisivo, Montesano continuò ad affermarsi a teatro, specialmente con la stagione di Il Bagaglino, dove collaborò con Gabriella Ferri nello spettacolo Tiette la Cica alla fine degli anni Sessanta. Il vero salto di qualità artistico avvenne con il sodalizio con Castellacci e Pingitore, che lo portò nel 1970 a diventare un volto noto nel programma televisivo Dove sta Zazà e Mazzabubù, ancora accanto a Gabriella Ferri. In radio, Montesano partecipò al programma Gran Varietà per quattro stagioni, 1972-1976, ottenendo grande successo con personaggi come Torquato il pensionato, Dudù il gagà e Cocò e la romantica donna inglese, che divennero popolari anche in televisione. Collaborò alla scrittura dei testi con Antonio Amurri e Ferruccio Fantone. Nel 1972 Montesano incise il suo primo 45 giri, Fortuna sì, Fortuna no, seguito dal più fortunato A me tu piaci te per la Cinevox. Anche se l'esperienza musicale rimase marginale nella sua carriera, contribuì a consolidare la sua popolarità. Enrico Montesano ha continuato a essere una figura di spicco nel panorama dello spettacolo italiano, sia al cinema che in televisione, con una lunga serie di successi e riconoscimenti nel corso della sua carriera. Enrico Montesano ha avuto una carriera variegata e prolifica tra Il piccolo schermo e Il grande schermo. Nel cinema ha interpretato una serie di film notevoli, tra cui Stasera mi butto, Io non protesto, io amo, Nel sole e I quattro del paternoster, quest'ultimo insieme a Paolo Villaggio e Oreste Lionello. I suoi primi ruoli da protagonista li ha ottenuti in coppia con Alighiero Noschese, in film come Io non scappo, c'fuggo, Io non spezzo un rompo e Il furto è l'anima del commercio, prodotti da Dino De Laurentiis. Ha poi lavorato con Bruno Corbucci in film come Boccaccio e Il prode Anselmo e il suo scudiero e con Mario Camerini in Io non vedo, tu non parli, lui non sente. Una collaborazione significativa è stata quella con Steno nel film Il terrore con gli occhi storti, sempre con Alighiero Noschese, con cui ha continuato a lavorare in altri importanti film successivi. Ha anche recitato, accanto a Barbara Boucher, nel film Amore vuol dir gelosia, ambientato a Procida e diretto da Mauro Severino. Nel 1976 Montesano ha recitato nel celebre Febbre da Cavallo, diventato un cult movie nel panorama della commedia italiana. Sempre negli anni 70, ha vinto un David di Donatello speciale per il suo passaggio dal piccolo al grande schermo. In televisione ha ottenuto successo con il varietà Quantunque Io su Rete 2, dove ha presentato i suoi personaggi e le sue imitazioni più riuscite. Grazie a questo programma, di cui è stato anche coautore dei testi insieme a Ferruccio Fantone, ha vinto il premio internazionale per la televisione La Rosa d'Oro di Montreux. Nel 1978 Montesano ha ottenuto uno dei suoi successi teatrali più importanti con Rugantino di Garinei e Giovannini, in cui ha recitato al fianco di Alida Kelly, Aldo Fabrizi e Bice Valori. Nel 1979 e nel 1980 Enrico Montesano ha continuato a consolidare la sua carriera cinematografica con ruoli significativi. Ha recitato nei film Aragosta a colazione, diretto da Giorgio Capitani, De Il ladrone e Qualamano, entrambi diretti da Pasquale Festa Campanile. Grazie a queste interpretazioni, ha vinto il suo secondo David di Donatello speciale nel 1980. Nel 1982 Montesano ha interpretato il ruolo di Il Conte Tacchia, diretto da Sergio Corbucci, accanto a Vittorio Gassman e Paolo Panelli. Sempre nel 1982 è stato protagonista del film Più bello di Così si muore, diretto da Pasquale Festa Campanile e tratto dal romanzo di Antonio Amurri. In questo film Montesano è stato trasformato in donna dal grande costumista Piero Tosi, evidenziando la sua versatilità e il suo talento nel campo della commedia e dell'interpretazione drammatica. Nel 1984 Enrico Montesano recita nel film Mi faccia causa, diretto da Steno. L'anno successivo, grazie al film A me mi piace, con le musiche di Fabio Concato e Mike Francis, Montesano vince un David di Donatello e un nastro d'argento come miglior regista esordiente nel 1986. Sempre nel 1986 è protagonista del film Sotto, 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 strapazzato da Anomala Passione, diretto da Lina Wertmüller. Nel 1984 interpreta un ruolo da protagonista in I due Carabinieri, accanto a Carlo Verdone, film campione d'incasso e vincitore del biglietto d'oro a Gis. L'anno successivo è nel cast di Grandi Magazzini, diretto nuovamente da Castellano e Pipolo. Successivamente, nel 1986, interpreta Il Tenente dei Carabinieri, con Nino Manfredi, Noi Uomini Duri, con Renato Pozzetto e Il Volpone, insieme a Paolo Villaggio, Enrico Maria Salerno e Renzo Montagnani, tutti e tre diretti da Maurizio Ponzi. Sempre nel 1987, ritorna con Mario Monicelli in I Picari, con Giancarlo Giannini. In televisione, Montesano ha partecipato nel 1968 alla trasmissione Quelli della Domenica, condotta da Paolo Villaggio, e ha fatto numerose apparizioni in varie trasmissioni televisive. Il suo più grande successo televisivo è avvenuto nel 1988, conducendo la nona edizione del Varietà del Sabato Sera Fantastico, accanto ad Anna Oxa. Questa edizione è considerata la migliore dal punto di vista coreografico e detiene ancora oggi il record di audience, con una media di 12 milioni di spettatori e punte di oltre 14. Collegato alla trasmissione, è stato pubblicato l'album Non mi lasciate solo, con le musiche di Claudio Mattone. Negli anni 90, Montesano ha diretto e interpretato per due stagioni la serie Pazza Famiglia, andata in onda su Rai 1, con grandi ascolti. Ha poi interpretato un ruolo drammatico nella miniserie Una prova di innocenza, 1991, diretta da Tonino Valeri, e ha recitato con Renato Pozzetto in Piedi piatti. Nel 1997 la Rai ha deciso di reintrodurre il programma Fantastico con la conduzione di Montesano, ribattezzato Fantastico Enrico e affiancato da Millicarlucci. Tuttavia, a differenza della precedente esperienza, gli ascolti non sono stati positivi e dopo cinque puntate, il programma è stato sostituito con Giancarlo Magalli. Nella stagione 1999-2000 Enrico Montesano ha stabilito un record di incassi al Teatro Sistina con lo spettacolo E meno male che c'è Maria, diretto da Pietro Garinei, replicando il successo con Malgrado tutto beati voi. Nel 1988 ha dato il benvenuto al mondo cinematografico alla giovane Sabrina Ferilli nel film Il Volpone, diretto da Maurizio Ponzi. Dopo essere stato inizialmente escluso dal progetto, nel 2002 ha ripreso il ruolo di Erpomata in Febbre da cavallo La mandracata, sequel del celebre cult movie di Steno, diretto da suo figlio Carlo Vanzina. Nel 2004 Montesano è stato il protagonista del sabato sera di Rai 1 con lo spettacolo Trash non si butta via niente, tratto dal suo omonimo show teatrale di successo. Il programma, ideato da Montesano ed Enrico Vaime, ha ottenuto grandi risultati d'ascolto con più di 6 milioni di telespettatori e ha visto la partecipazione di ospiti illustri come Tiziano Ferro, Renato Pozzetto, Nancy Brilli, Nino D'Angelo, Mino Reitano, Gabriella Ferri, Richard Galliano e Luciano Gaucci con la regia di Maurizio Pagnussat. Negli anni successivi, Montesano è tornato in televisione con il film Il mondo è meraviglioso. Nel 2005 ha partecipato al documentario Adolfo Celi, un uomo per due culture, nel 2006 nel ruolo di se stesso, diretto dal figlio Leonardo Celi ed è stato nel cast di Ex nel 2009 e Tutto l'amore del mondo nel 2010, diretto da Fausto Brizzi. Nel 2013 ha portato in scena la commedia musicale C'è qualche cosa in te, riproposta con successo in diverse occasioni, incluso un adattamento televisivo su Rai 1 nel 2015 con ottimi ascolti. Dal 2016 al 2017 è stato membro della giuria del programma di Rai 1 Sale e Quale Show affiancato da Loretta Goggi e Claudio Amendola nell'edizione 2016 e da Loretta Goggi e Christian De Sica nell'edizione successiva. Nel settembre 2022 Enrico Montesano ha fatto il suo ritorno in televisione partecipando alla 17 edizione di Ballando con le stelle dopo quattro anni di assenza dal piccolo schermo. Enrico Montesano ha avuto anche un coinvolgimento politico seppur per periodi brevi. Verso la metà degli anni 70 aderì al PSI e in vista delle elezioni regionali del 1975 collaborò con l'Equipo 84 per la realizzazione di un disco propagandistico curato dalla sezione stampa e propaganda del partito incoraggiando a votare per i socialisti. Nei primi anni 90 si avvicinò al PDS di Achille Occhetto. Con il simbolo della quercia si candidò alle elezioni comunali del 1993 a Roma dove risultò il più votato della sua lista con circa 8.300 voti. L'anno successivo si candidò alle elezioni europee e fu eletto europarlamentare con 144.004 preferenze. Tuttavia la sua esperienza a Strasburgo non fu particolarmente positiva e Montesano successivamente commentò non vedo un'Europa dei popoli ma dei burocrati. Si dimise dall'incarico il 24 ottobre 1996 prima di aver diritto al vitalizio con le dimissioni accettate il 11 novembre successivo. In seguito Montesano si avvicinò al centro-destra manifestando un esplicito sostegno a Gianni Alemanno come sindaco di Roma. Nel 2013 aderì brevemente al Movimento Libertario attratto dall'aspirazione per nuove prospettive. In seguito simpatizzò per il Movimento 5 Stelle e partecipò a diverse iniziative politiche del Movimento. Tuttavia tra il 2019 e il 2020 manifestò delle critiche nei confronti dell'M5S per i cambiamenti di rotta rispetto al programma originario. Dal 2020 Enrico Montesano ha intrapreso una battaglia politica contro il 5G partecipando alla manifestazione di Roma organizzata da Alleanza Italiana Stop 5G. Successivamente ha criticato l'imposizione dei vaccini e le restrizioni legate alla pandemia di Covid-19 attraverso numerosi video sui social media e con lo spettacolo satirico politico Piazze Libere che ha debuttato a Roma l'8 maggio 2021. Montesano ha pubblicato diversi video esprimendo critiche sulla gestione della pandemia e sostenendo varie teorie del complotto correlate alla Covid-19 e ai vaccini. Nel giugno 2021 è stato al centro di una controversia per aver diffuso una teoria secondo cui il sangue donato dai vaccinati veniva eliminato una falsa affermazione smentita dalle autorità competenti. Ha successivamente chiarito di essere stato frainteso e si è scusato per l'incidente. Nel novembre 2022 Montesano ha partecipato alle prove del programma televisivo ballando con le stelle indossando una maglia con il motto D'Annunziano Memento Audere Semper e le insegne della ISAMAS. Questa scelta ha suscitato reazioni di indignazione all'interno del Consiglio di Amministrazione della RAI portando alla sua squalifica dalla trasmissione.